Tempo fa c'era una richiesta per un programma che è Rune Visiting Scholar a Pittsburgh e ho fatto un paio di telefonate, ho parlato con una persona che è il regista, il capo del dipartimento del media art qui Michael Di Lauro e lui mi ha detto guarda ci sono molte persone che vengono ogni anno e seguono questo programma è un programma di insegnamento però se tu mandi la tua proposta la valuteremo ho mandato una proposta semplicissima, 150 anni della storia d'Italia attraverso il nostro cinema migliore che non è il solito cinema italiano ma è il cinema che ama Brusati, ama Florestano Vancini e Giuseppe De Santis che sono stati i miei primi maestri alla nuova università del cinema e della televisione a Roma che ama Nino Manfredi, che ama Alberto Sordi, che ama Totò quindi ho fatto un programma che ama Roberto Benigni e Massimo Troisi ho fatto un programma che potesse dare all'America l'impressione che l'Italia non è soltanto Fellini, Pasolini non è soltanto la spazzatura di Napoli ma la nostra mentalità, quella mentalità italiana non è soltanto tragica o comica ma è tragicomica come il nostro cinema migliore la commedia all'italiana ci ha insegnato e con questo programma mi hanno chiamato dopo quattro giorni e mi hanno detto il posto è il tuo e sei il primo giovane a venire qui a seguire questo programma perché tutti gli altri avevano qualche anno più di me o erano già in pensione Well, it's an exciting time for our university to get more and more involved in international affairs, international education and international issues and obviously this being a special year for Italy and coming together as one nation we thought it would be a great theme for the year for our students and our faculty and for visitors to come to this campus and talk about how this campus has experienced Italy on a number of levels both from our students and our faculty and be able to bring some of the history of Italy to this campus and create a dialogue on some of the exciting things that have happened in Italy over the years and so it just gives us a great platform to be able to talk about a history's evolution. La storia di Angela Volpini è una storia poco conosciuta quindi sto facendo sentire la voce di quell'Italia che non si conosce oppure che spesso viene dimenticata o cancellata per un motivo o per un altro. Quando si è bambini appunto è facile andare sui rotocalchi, sui giornali, si ha una storia da raccontare. Quando si diventa adulti come Angela Volpini e il proprio messaggio, un messaggio personale, un messaggio etico che deve toccare le coscienze e non c'è strumentalizzazione del messaggio, la gente tende spesso a dimenticare. Invece il contesto in cui abbiamo presentato Angela Volpini, il film di Faenza, Forza Italia del 1977, è un contesto storico. Cioè noi raccontiamo la storia di una bambina che è diventata donna e che se mai i rotocalchi hanno abbandonato. Ma perché? Perché non c'era più bisogno, secondo una certa società, di un messaggio così forte come quello di Angela Volpini, creare il nostro paradiso qui sulla terra. Io non sono un personale spirituale, e ho un po' difficile con la storia di idolizzare di santi e cose così, ma il tuo presentazione di Angela Volpini è tremendo. It was very spiritual, but it was so much... It was just spiritual, enlightening... I know that those are trite terms. It was very spiritual, enlightening, but educational to a point where they're saying yes, you know, this is a real thing that happens to real people. And although those people are few and far between, I think it also addresses the point that we all have those kind of powers. ma non riconoscele che non riconoscele. I sicuramente conosco la mia mamma, in terms di sensibilità di sensibilità, che è un'esperienza molto spirituale, e ha reenforzato, per me, che abbiamo tutti i capaci, ma bisogna di sviluppare, come una skill, come una skill sete, o qualcosa di così. La mia vita è incredibile, la mia vita è incredibile. Lo che ho parlato con, lo che ha detto, based sull'espressione, era, ma la mia vita è un'esperienza, e la mia vita è un'esperienza, perché la mia vita è un'esperienza in un modo, in un modo, in un modo, la mia vita è un'esperienza. La storia di Angela Volpini si inserisce nel contesto dell'Unità d'Italia, perché la prima apparizione avviene proprio, di questa signora avviene ad Angela Volpini nel 1947, esattamente, pochi mesi prima, la vittoria della democrazia cristiana. Quindi, presentare qui, alla Robert Morris University, come questo miracolo, come questa visione è stata strumentalizzata all'epoca dai partiti politici, è una cosa interessantissima, che fa capire quanto, nella cultura italiana, spesso ci affidiamo all'audiovisivo, ai mass media, senza farci una nostra propria idea. E non fare un'idea, non farci un'idea, ci porta ad allontanarci, secondo me, verso questo paradiso. Perché noi siamo, prima di tutto, sì, uomini politici, ma siamo individui, con una propria personalità, ed è quello che Angela Volpini insegna. quindi, come diceva anche Giovanni Paolo II, facciamo della nostra vita un'opera d'arte. Quindi, ognuno di noi, può creare la propria opera d'arte e creare il paradiso su questa terra, come Angela Volpini ha cercato di comunicarci.